Dunque un uomo di 69 anni è morto schiacciato dall'escavatore che stava guidando nella Modenese. Sentiamo il servizio. Un incidente sul lavoro ha ucciso oggi un agricoltore di 69 anni sull'appenino modenese. Attorno a Luna l'escavatore che stava guidando si è ribaltato lungo un pendio nei terreni della sua azienda in via Fontana Bastiglia, località Valle di Serra Mazzoni, a circa 40 km da Modena, mentre era impegnato nella raccolta e nel trasporto di legname. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo e i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco sono stati inutili. L'agricoltore è deceduto poco dopo. Restano ora da accertare le cause dell'accaduto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione locale. Secondo gli ultimi dati INAI l'agricoltura è il settore professionale più a rischio di infortuni, con il 37% dei casi di incidenti mortali, di cui 6 casi su 10 proprio a causa del ribaltamento dei mezzi. Valentina Fizzotti, TGR, Emilia Romagna.